Buongiorno buona gente, questo cordiale saluto vi giunge nuovamente dagli studi di ETV per la vostra rassegna stampa tra i temi del giorno certamente la Corte Costituzionale che ha definito legittimo l'obbligo vaccinale, quindi scattano le multe per i cinquantenni che non abbiano ottemperato all'obbligo, lo sciopero nell'ambito del trasporto pubblico locale, quindi con possibilità di disagi fino alle 17 e poi dalle 20 per il trasporto pubblico, ma anche visto che siamo a di venerdì ci pare giusto e doveroso anche fare un punticino sui mercatini di Natale 2022 nelle Marche, gli appuntamenti da non perdere, in particolare avevamo lasciato in sospeso il Maceratese che aprirà il suo Natale, proprio il capoluogo provinciale, 3 dicembre domani con la festa in Piazza della Libertà, una costante ensemble di alberi, luci e venti, non mancheranno i mercatini natalizi per incentivare lo shopping, ma a questo punto viene da sé verificare il meteo per questi prossimi giorni. Somma, oggi bene, faccio proprio il focus sulle Marche in questo senso, al di là delle previsioni nazionali, per la giornata di oggi, venerdì, 2 ok, mentre invece per la giornata di sabato, oggi non piove, sabato invece potrebbe piovere in tutte le Marche, quindi sappiamo che le amiche e gli amici di Macerata e di Falconara, sono un po' con il fiato sospeso e gli occhi verso il cielo per capire se le feste di accensione dell'albero si terranno in modo asciutto. Domenica 4 di dicembre, invece tutto ok, poco nuvoloso qua e là, cielo sereno in particolare ad Ascoli Piceno. Allora possiamo tuffarci, possiamo tuffarci sulle notizie di marca marchigiana. Le principali, le intercettazioni dell'inchiesta Cala Maretto, l'assessore Cognini intercettato, non ti voglio sanzionare. Queste sarebbero alcune dichiarazioni emerse, ma che potrebbero mettere ancora più nei guai le figure anche importanti a livello istituzionale coinvolte, ma come sempre qui principio di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. Stanno, ahimè, emergendo però intercettazioni molto molto piccanti. Assalto alla Eurocom, notizia che ieri mattina vi abbiamo praticamente dato in diretta, l'abbiamo vissuta in tempo reale con il nostro Giacomo Giampieri che si è prontamente portato sul posto. Abbiamo visto con Giacomo il cancello abbattuto, i chiodi buttati per terra, le macchine rubate, piazzate là a bloccare le strade. Una storia da film quasi, decine di telefonate invece a Pesaro per tormentare il cognato accusato di essere l'amante della moglie. E allora ti ammazzo, vicenda che finisce in tribunale. C'è una brutta storia invece che riguarda un terremotato marchigiano trovato senza vita nella roulotte dove viveva dal 2016. La mamma non lo sentiva da oltre dieci giorni. Non ci dimentichiamo che non abbiamo ancora risolto l'alluvione, stiamo guardando anche a livello nazionale a quanto accade a Ischia e ci sono ancora persone che dal 2016 aspettano risposte. Ancora notizie dalle marche, neve sul monte Piselli, si spera nella riapertura degli impianti per l'immacolata, quindi l'8 dicembre save the date. Schianto tra auto e scooter, brutta storia qua da Fano, anziano in auto a Cucurano, non dà la precedenza e urta uno scooter, ragazzo che striscia sull'asfalto per 26 metri. Settimana scorsa ricorderete la storia straziante di questa signora anziana, ottantenne, trascinata addirittura per 7 chilometri dalla zona di Marzocca fino al centro quasi di Senigallia. 26 metri in questo caso, è caduto sull'asfalto strisciando sulla strada per 26 metri. Pauroso incidente ieri pomeriggio a Cucurano che ha coinvolto un diciassettenne in scooter. Per i ragazzi e le ragazze in scooter attenzione, massima attenzione, ma anche per chi si pone al volante rischiamo davvero di fare danni incredibili. Allora, a proposito di incidenti, purtroppo ieri c'è stato lo straziante, addio a Simone morto in ambulanza, un ragazzo troppo giovane per morire così. Porta tutto questo amore con te, questo è il messaggio che gli hanno tributato le oltre mille persone, noi eravamo presenti a quel servizio. Le giacche rosse si stringono l'una con l'altra, si piange sopra la spalla degli amici, ci si abbraccia e ci si conforta a vicenda. Coi visi cupi, pensieri offuscati e nonostante tutto si prova a reagire, ad una fine assurda che non ha certo cancellato il ricordo di un ragazzo speciale, Simone Sartini, il cui sorriso si è spento lunedì assieme a quello dell'83enne Cosimo Maddalo nella tragedia dell'ambulanza. Aveva i desideri propri dell'età, una vita da edificare, i sogni da concretizzare. Per certo quelli del 28enne, soccorritore della Croce Rossa di Senigallia, si erano materializzati quando un anno e mezzo fa, dopo la trafila da volontario, era diventata autista e dipendente dell'associazione, associazione che ai funerali ha radunato tutte le altre, dalla provincia di Ancona, dalle Marche e persino da fuori regione. Ci sono tutti per salutare Simo, Forze dell'Ordine, altre croci, protezioni civili, autorità e amici. Tutti per porsi accanto a mamma Floriana, papà Giampiero e la sorella Chiara, travolti dal dolore, stremati in prima fila della chiesa, ma circondati da persone che sono lì, per il loro Simone. Guarda quanti siamo, guarda quanti vuoi segnali e quanti dite hai cambiato, guarda tutto del tuo affetto, portalo con te, con chiedezza e orgoglio, grazie di essere stato il nostro unico, inimitabile, insostituitissimo. Simone non è scomparso, ma è ancora qui con noi, specifica il parroco. Poi ci si alterna sull'altare per descrivere il 28enne. Mi ricordo che con il Covid, durante le sue uscite, quando tutti avevamo paura, eri in primo a partire, tutto bazzato, sempre con le sorrisate, e io finiscevo la terrazza. Mi raccomando, stico, attento, e tu mi dicevi, vada per il mio, e come facevate tutto a vivere? Da oggi invece, dove dobbiamo fare una cosa per voi? Oggi ha arrivato il suo spirito a me, quello che prima era a vivere, secondo la sua leggerezza. Vivere con leggerezza, come avrebbe fatto lui. Si esce dalla chiesa, le ambulanze scandiscono il tempo a suon di sirene, un tempo che si è fermato a lunedì, quando il tir si è ribaltato e ha centrato il mezzo del soccorso sulla rampa verso l'A14. I palloncini bianchi volano in alto, per raggiungerlo, Simone è lì, in mezzo a loro, e sempre lo sarà. Questo è il toccante servizio del collega Giacomo Giampieri. Torniamo alle notizie nazionali perché vi sta molto facendo scrivere questo titolo. L'obbligo di vaccino era legittimo. Tante richieste di risarcimento sono partite da lavoratrici, lavoratori non vaccinati, definiti Novax, anche da questo giornale Corriere della Sera. La Corte Costituzionale però ieri si è pronunciata e ha dato torto ai non vaccinati, Novax, come ripeto richiama il giornale, dando ragione invece alla linea del governo Draghi e del ministro Speranza. La Corte Costituzionale ha respinto tutti i ricorsi contro il decreto con cui il governo Draghi impose, lo ricorderete, per febbraio scorso, la somministrazione a tutti gli ultracinquantenni. Perché? Perché era una scelta a tutela della salute. A questo punto tornano in ballo le multe per i cinquantenni che non si erano vaccinati e questa è una vicenda che recupereremo e ritorneremo ad affrontare. Questa intanto era la foto bellissima che ci hanno mandato da fermo lì sulla destra con sguardo verso le montagne. Davvero grazie per la vostra voglia e piacere di condividere con noi notizie ed emozioni. Maurizio ci scrive Maria Rita, ribadisco io ho fatto tutti e tre i vaccini ma sono contraria all'obbligo. Libertà, libertà di scelta si chiama per me. Grazie Maria Rita per questa tua testimonianza. Andremo a Candelara, salvo imprevisti, ci scrive Silvia. Grazie. Perché Silvia ci scrive di questo? Perché ho fatto un po' il punto sui mercatini del weekend e compreso con lo scenario di Natale, chiaramente c'è Candelia Candelara. Il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle candele. Ha fatto molto ridere una signora la battuta che ho fatto su candele a Candelara. La candela non è quella classica dei bimbi quando è freddo e che ci hanno il mucciolino ghiacciato. Quella è una tipica scena di montagna. Il primo mercatino natalizio nella zona di Candelara, un borgo medievale dedicato a questo appuntamento. Ma c'è anche fermo, che si popola con i mercatini natalizi e nel cuore di Piazza del Popolo un appuntamento immancabile per vivere insieme l'atmosfera natalizia. Sfogliamo, sfogliamo. Le pagine di Giornale Marchigiane. E allora Ancona. Facevo acquisti, mi ha toccato il seno. Ha processo un commerciante di 84 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti nel negozio di strumenti musicali che l'anziano gestisce. Vittima una cliente inglese. Era arrivato un messaggio che diceva a me ma se doveva provare un vestito può essere stato un errore. Non prendiamocela sempre con gli anziani. Allora in realtà il negozio vende strumenti musicali quindi è un po' strano che ci sia un tocco sul seno. Tutto può succedere. Per carità ci sia stato un errore anche qui però insomma l'accusa è questa qua. Un 84 anni finisce nei guai. Altra notizia che mi avete chiesto, ci avete chiesto di approfondire. Vi confermo che a ortopedia di Torrette c'è un focolaio covid ed è un focolaio che cresce. 32 sono diventati positivi. 24 i pazienti asintomatici. Stop adesso ai ricoveri programmati. Quelli dell'emergenza vengono accolti. Per dire se uno si spacca un ginocchio o un crociato anteriore, facciamo un esempio, può essere certamente accolto per via emergenziale in reparto. Altrimenti c'è stato lo stop temporaneo precauzionale dei ricoveri. Quelli che invece erano programmati per interventi che erano stati prenotati e previsti. C'è una recrudescenza dei contagi, spiega l'amministratore Maraldo che saluto caramente. Un ottimo professionista. Ma la situazione in questo momento è sotto controllo. Comunque confermiamo sì che c'è stato un aumento dei contagi. Vi riporto alle notizie di prima pagina attraverso il Corriere. Questa è una buona notizia da Pesaro. Rifiuti, bollette più leggere sulla stangata per le badanti. Vi spiegherò meglio tra poco. Marche Multiservizi e c'è anche la questione del super bonus. Sì, un sacco di notizie oggi. Marche Multiservizi incrementa la differenziata con effetto risparmio sugli importi da pagare. Meglio differenzi più fai la differenza in bolletta. È la battuta che ho fatto già poco fa. In centro è partita la campagna che premia a Pesaro le famiglie virtuose. Scoperto invece in taglio centrale un traffico di uccelli da richiamo. Affari illeciti a spese dei cacciatori. E poi la vicenda di Gradara circondati dai lupi. Una famiglia circondata dai lupi. Ne abbiamo parlato ieri mattina. Scattano i controlli attorno all'azienda per capire se questo branco sia stanziale o sia stato solamente di passaggio. La vacanza che tutti sogniamo. La vacanza da il sogno del sogno. Godere a mille e poi manco pagare. Non è che si può fare però. Soggiorna all'hotel la 5 stelle e manco paga il conto. È successo a Pesaro. Ora è caccia allo scorcone. Campus scolastico. Impianti fotovoltaici contro il caro tariffe. Succede a Pesaro. L'alternativa appunto piazzare i pannelli però il problema come dicevo anche prima è che non ci stanno i pannelli. Manca la materia prima. E poi la brutta storia d'affano. Staccata all'acqua in casa. Denuncia contro l'ERAP. La protesta in 4 alloggi popolari di Bellocchi. Servizio tolto anche a chi paga tutte le rate. La beffa per chi paga è che intanto si deve pagare anche per chi non paga. E poi il rischio è che andando avanti alla fine l'agenzia, l'azienda che si occupa del servizio decide comunque di staccare e quando stacca, stacca per tutto il condominio. Ne abbiamo parlato anche settimana scorsa di questa brutta brutta storia. Ora la questione delle badanti. Intanto vi confermo che il super bonus potrebbe essere prorogato non più al 25 di novembre. La scadenza a questo punto è già passata per la presentazione della CILAS per avere comunque il 110 anche l'anno prossimo. Ve lo spiegherò meglio tra poco perché in realtà molte famiglie ci hanno scritto preoccupate per questa notizia qua. Stangata badanti. In un anno costeranno 2000 euro in più per la rivalutazione dell'inflazione allarme allora lavoro nero. Perché? Perché l'alternativa quale può essere? Alla badante si dice guarda sono aumentati i costi diciamo white in bianco ufficiali per cui o non riesco a pagarti in regola o facciamo una cosa così oppure ti devo lasciare. E quindi la badante rischia di perdere il posto potrebbe anche essere cedevole al ricatto. Non si fa è violazione della legge. L'adeguamento all'inflazione fa lievitare il salario medio a 30.000 euro. Il sistema di detrazioni è insufficiente per chi assume in modo regolare. Ancora una volta il problema delle tasse in Italia mi permetto non è tanto che sono troppo alte ma è che non ci permettono di pagarle le tasse perché non c'è un sistema virtuoso per chi paga le tasse. Cioè chi paga deve pagare e non ha aiuti. Chi invece fa il furbo rischia certamente però nel frattempo potrebbero passare anni decenni secoli dei secoli. Amen. Scaricano tutto su di noi questo lo sfogo delle famiglie. Se avete una badante siete preoccupati fateci sapere 349 39 18 169. Cambiamo argomento torniamo sulla base anche delle vostre richieste e segnalazioni sull'assalto ad Eurocom di Montemarciano. Strade bloccate dai ladri poi il colpo nel cavo. Diversa gente da Montemarciano ci ha segnalato momenti di panico ieri mattina perché era tutto bloccato sirene spiegate eccetera. Tra poco vi ci riporto. Intanto due notizie due veloci veloci lo sciame sismico che dopo l'impatto forte della notte di ieri stanotte ha tra virgolette lavorato meno lo sciame sismico. Ci sono stati pochi fenomeni uno alle due tre quarti l'altro alle sei e diciotto entrambi sotto la soglia anche un po psicologica tre per cui lo sciame sismico ha un pochettino rallentato. L'altro tema che ci avevate chiesto di approfondire è questo qua. Attenzione oggi sciopero generale nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto da USB cioè da Unione Sindacale di Base per cui potrebbero esserci disagi nella fascia oraria 8.30 17 e poi dalle 20 fino alla fine del servizio per cui questo è il quadro la situazione però attenzione è da monitorare sulla base del sindacato USB cioè i grandi sindacati italiani non hanno aderito questo sciopero. L'USB è un importante sindacato italiano gli auto ferro tramvieri USB a seconda dell'adesione azienda per azienda dei lavoratori delle lavoratrici a quel sindacato ci possono essere più o meno disagi. Ora la vicenda di cronaca l'assalto da film all'Eurocom. Un assalto da film quello compiuto tra la notte odierna e le prime luci dell'alba e un colpo che ancora tutto da quantificare in termini di merce rubata. La Eurocom di Montemarciano è tornata nel mirino dei ladri che hanno messo a segno un blitz criminale studiato nei minimi dettagli. Attorno alle 7 sono iniziate ad arrivare le prime chiamate alle forze dell'ordine. L'azienda che si occupa della distribuzione logistica di elettrodomestici infatti è stata totalmente isolata dai malviventi che hanno agito con piena contezza. Dapprima hanno provveduto a sbarrare le arterie che circondano lo stabilimento. Lo hanno fatto schierando in strada diverse auto, almeno 6 e da quanto emerge tutte rubate in precedenza, disposte in maniera perpendicolare sull'asfalto. Un paio all'uscita del casello autostradale della 14 di Montemarciano, altre due sotto il ponte della Gabella e due all'intersezione tra via Aquastrini e via Brecciata. Hanno utilizzato anche dei chiodi di ferro piuttosto resistenti con cui hanno disseminato la carreggiata per rallentare gli interventi dei militari. A quel punto hanno raggiunto la Euro come sono passati dal retro. Hanno abbattuto un cancello secondario e poi si sono introdotti nel cavo. In pochi minuti hanno recuperato l'area furtiva e sono scappati. Non è chiaro in quale direzione, ma sembra a bordo di un furgone ulteriormente asportato nel corso del blitz. Sul posto si sono portate diverse squadre dei carabinieri che hanno iniziato i primi rilievi e contestualmente hanno raccolto elementi utili ad individuare il commando. Presente anche la capitana dell'arma senigalliese, Francesca Romana Ruberto, che ha organizzato le operazioni. Inevitabili disagi al traffico, con le strade che sono rimaste chiuse per ore per consentire ai professionisti di ispezionare le vetture sfruttate per serrare le principali arterie e successivamente rimosse per ripristinare la viabilità. Lungo via maestri del lavoro sono state notate anche delle lavatrici e pezzi di elettrodomestici che, secondo le ricostruzioni, si trovavano a bordo del Ducato usato per la fuga spettacolare. Il ride alla Eurocom ha un precedente piuttosto recente. Nel maggio scorso, il 27 per l'esattezza, una banda specializzata era riuscita ad introdursi con modalità analoghe a trafugare telefoni cellulari, non tracciato considerato il passaggio dalla casa di produzione all'azienda che si occupa del loro smistamento e altre apparecchiature elettroniche. Le indagini proseguono con il massimo riservo da parte delle forze dell'ordine. Questo è il servizio del collega Giacomo Giampieri. Attenzione, l'isteria in un lotto di salame morbido. Il Ministero Siamo Amatelica ritira le confezioni a rischio. La produzione dello stabilimento Samo di Amatelica. Abbiamo fatto tutto il necessario, spiega l'azienda. L'isteria in un lotto di salame morbido del marchio Samo di Amatelica. A renderlo noto è il Ministero della Salute che sul sito, attenzione, ha pubblicato un avviso rivolto ai consumatori chiedendo di non consumare prodotto ma di riportarlo nel luogo di acquisto. Sono state quindi richiamate le confezioni di salame morbido e nel motivo del richiamo da parte del Ministero si legge per la rilevata presenza di l'isteria. Quindi attenzione, informazione anche questa credo e spero utile di servizio. Se aveste acquistato presso la Samo di Amatelica dei lotti delle confezioni di salame morbido, non mangiatele. Riportatele in azienda eventualmente, ma comunque non mangiatele. È un appello che arriva direttamente anche dal Ministero. Mercatini di Natale 2022. Cambiamo decisamente sapore alle notizie. Nelle Marche gli appuntamenti da non perdere. Abbiamo parlato poco fa di Fermo e di Pesaro. Ad Ascoli, casette di legno con i mercatini nelle principali piazze e vie della città, tra cultura, storia e occasioni di acquisto che non mancano mai. E poi andiamo ad Ancona con la ruota panoramica, tutto acceso sabato scorso. È la ruota panoramica, il Christmas Market, la pista di pattinaggio su ghiaccio, il Christmas Village, poi il grande albero di Natale, lungo corso Garibaldi, fino a Piazza Roma. Sono allineate altre casette di legno del mercatino, decorate a tema con una poliedrica offerta di oggetti regalo dolci e prelibatezze. Poi continueremo i giri. Ci sono altri temi da affrontare, in particolare questa storia qua. Torniamo al Maceratese, a Monte Cassiano, per la precisione. Siamo sotto Natale e purtroppo la vigilia di Natale del 2020. Le Marche vennero sconvolte da questo delitto. Rosina uccisa nella villetta di famiglia. Il PM chiede tre ergastoli. La procura vuole il massimo della pena per la figlia di Rosina, il nipote di Rosina che avrebbe materialmente effettuato l'omicidio e il marito. La mente, cioè con lei che avrebbe ordito tutto, sarebbe stata la figlia Arianna. Questa povera signora Rosina Carsetti non c'è più, aveva chiesto anche aiuto ad una associazione. Il 26 di dicembre avrebbe avuto un incontro con un'associazione che aiuta le persone in difficoltà a livello familiare. Non è mai riuscita ad andare a quell'incontro perché il 24 è morta. Tre ergastoli. Questa è la richiesta per il marito, la figlia e il nipote per l'omicidio della 78enne Rosina Carsetti. Quindi sarebbe stata la sua famiglia. Ma finché non c'è una condanna manteniamo certamente il condizionale. C'è l'altra triste storia della signora Maria. Domani a San Severino la Dio a Maria morta per schiacciamento del torace. Questo dice la verifica autoptica sul suo corpo. Il figlio l'ha colpita ripetutamente con le forbici e poi è salito sul corpo della mamma causandole un'asfissia mortale. I nuovi elementi emersi dall'autopsia, i funerali nella chiesa della Pieve. Insomma una giornata un po' così. Buongiorno Maurizio da Patrizia, da Carla che ci scrive da Civitanova. Io sono d'accordo per il vaccino. Fino al 2001 avevamo in negozio e qualsiasi attività c'era il libretto sanitario era obbligatorio. Tutti gli anni dovevamo fare un vaccino altrimenti non si apriva ed è così è molto meglio. Ci scrive Carla messaggio con qualche inciampo contenutistico ma il concetto si capisce. Carla interviene su questo tema qua. L'obbligo di vaccino ieri lo ha deciso. La Corte Costituzionale era legittimo. La consulta ha bocciato, ha dato torto ai cosiddetti non vaccinati, ai Novax. Quindi riaprono così queste parole la partita delle multe, delle sanzioni agli over 50 non vaccinati. Super bonus. Questa è una novità rispetto a ieri. Si valuta una proroga rispetto alla scadenza che era stata stabilita al 25 di novembre. Fratelli d'Italia e Forza Italia, due partiti di maggioranza, propongono di spostare in avanti la stretta sul 110. Il dossier va al MEF, cioè Ministero dell'Economia e Finanza, per capire se ci siano i soldi per sostenere questa scelta. C'è il nodo delle coperture. Spunta l'ipotesi di allungare di un anno l'uscita anticipata poi per le donne, cancellando i paletti su categorie e numero di figli. Quindi lo scivolamento, opzione donna, così si chiama, potrebbe essere migliorato. Il quartiere 4 Marine di Civita Nova Marche, torniamo ai vostri messaggi, ringrazia il sindaco Ciara Pica che durante la campagna elettorale si era mostrato interessato e, secondo quanto ci raccontano, aveva promesso che avrebbe combattuto per non far installare un'antenna per poi avere anche i voti e la fiducia. Oggi ci troveremo con un'antenna davanti alle case di nuova costruzione con bambini e anziani malati. Grazie per questa segnalazione ovviamente molto molto dura. Allora, su questa vicenda, installazione delle antenne, sono due in via Verga e in via Guerrazzi. Ci sono state diverse polemiche a Civita Nova Marche che si deve dotare, come altri comuni, di un piano antenne. Su questo tema un pochino sono pratico perché ho fatto tante battaglie proprio per rispondere a richieste di cittadini, di quartieri che se ne lamentavano. Purtroppo le regole sono queste qua. Se c'è un piano antenne che prevede in una determinata zona la possibilità che sorga lì un'antenna e poi nel frattempo ci sono case che vengono costruite lì, ma il piano antenne prevedeva questa possibilità, il comune purtroppo non può opporsi alla messa in opera di un'antenna se precedentemente c'era stata una... non c'è bisogno neanche di un'autorizzazione purtroppo, lo so che è brutta, ma questa è duralex sedlex, dicevano i latini. Mi spiace tantissimo se poi se ne è discusso in campagna elettorale, insomma la cosa diventa ancora più spiacevole. Facci sapere come va a finire questa faccenda se davvero verrà messa su questa antenna. Io sono d'accordo per il vaccino anti-covid. Lunedì mattina vado a farmi la quarta dose. Grazie per questo messaggio. C'è chi è favorevole al vaccino, ce ne sono tanti altri che invece sono contrari, soprattutto adesso che il quadro è in miglioramento. Però attenzione, non ci dimentichiamo che il covid c'è ancora ed è un nemico importante, prova ne sia il fatto che a ortopedia di Torrette, quindi non è neanche tanto distante da noi, da dove vi stiamo trasmettendo, c'è un importante focolaio covid. Voglio leggerve la notizia, sì, ortopedia si allarga il focolaio, 32 casi di positività, 24 pazienti asintomatici, stop però ai ricoveri programmati proprio a seguito di questo problema. Mi devo fermare, giusto il tempo per riepilogare, proprio un paio di notizie, soggiorno all'hotel 5 stelle di Pesaro, ma non paga, si dilegua senza pagare il conto, caccia all'uomo, aiesi, ex ospedale, lavori fermi, zero parcheggi, l'imprenditore annuncia, chiederemo i danni, mi fermo, grazie, oggi bello, sabato piove, domenica bello. Questo un po' per il quadro e attenzione venerdì. Per una professione sicura e all'avanguardia, corsi di formazione per saldatori ad Ancona, Iesi,